ciao ragazzi l'argomento di oggi che volevo parlare è il fatto che perché secondo me la drill sta rovinando la creatività dei beat maker perché secondo me adesso ragazzi quello che sta succedendo adesso è il fatto che quasi tutti beat maker ragazzi sono facendo dei beat drill invece di cercare di fare di creare qualcosa proprio di creare quello che facevano prima e quindi lasciano la loro creatività a parte per poter seguire la creatività di un altro e quindi questa cosa qua vedo che secondo me mi tiene veramente a cuore a spiegarvi che ragazzi continuate a fare quello che vi piace fare non fare delle cose non fate delle cose giusto perché stanno andando di moda perché la moda passa anche se ragazzi non è possibile che tutti i rapper adesso stanno facendo uscire delle canzoni tutti uguali con gli stessi tip beat di drill giusto perché va bene così capito giusto perché sta andando di moda adesso ragazzi per me non è ragionevole ragazzi secondo me è qualcosa di completamente sbagliato fare le cose giusto perché stanno andando di moda per questo dobbiamo farlo e quindi facciamoli tutti no ragazzi secondo me la musica è qualcosa di ispirazione devi creare devi avere delle emozioni dentro e quelle emozioni dentro devono spingerti a creare dei beat che possono essere magari triste o dei beat fortissimi e quindi ragazzi questo era tutto quello che volevo dire che ragazzi non dimenticate la vostra creatività perché quello che conta è la cosa numero uno è la cosa più importante la creatività vostra è la è una una delle cose più importanti che può succedere e quindi per questo motivo penso che continuate a fare quello che avete sempre in mente ragazzi non create le cose giusto perché quelli vanno di moda perché il fatto che ho sentito me ne sono accorto proprio oggi perché ho sentito tantissime canzoni dei nuovi rapper dei beat che sono tutti uguali ragazzi sono tutti uguali sono drill ragazzi create non sono ragazzi fate roba nuova anche se fate quello che vi viene veramente da dentro non fate roba perché si andranno di moda ecco ragazzi questo era tutto al prossimo video